angelus ringraziamo il signore per averci donato gesù tramite maria vergine e chiediamo protezione ecco il testo dell'angelus che possiamo recitare innanzitutto per ringraziare il signore per averci donato suo figlio e nostro fratello gesù attraverso maria l'angelo del signore infatti portò la lieta notizia a maria che accettò di concepire suo figlio attraverso lo spirito santo una preghiera che può essere recitata per ricordare l'evento di duemila anni fa ma anche per chiedere a dio gesù e la madonna di aiutarci nei momenti difficili di proteggerci di abitare in mezzo a noi poiché già il verbo si fece carne una bellissima preghiera intervallata da tre ave maria e un gloria al padre finale nel nome del padre del figlio dello spirito santo amico l'angelo del signore portò l'annunzio a maria ed ella concepì per opera dello spirito santo ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte eccomi sono la serva del signore si compie in me la tua parola ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte prega per noi santa madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte prega per noi santa madre di dio perché siamo residenti delle promesse di cristo infondi nel nostro spirito la tua grazia o padre tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo figlio per la sua passione e la sua croce guida ci alla gloria della risurrezione per cristo nostro signore amén gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amén nel nome del padre del figlio dello spirito santo amén di vecchioio ciao ciao Grazie a tutti.